Ragazzi, quasi ci siamo. E poiché non tutti hanno la voglia o conoscono la sufficienza la lingua inglese per andare a pescare notizie fresche direttamente alla fonte di Mamma Gearbox, ho pensato di fare questa breve anteprima di due eventi che sono importanti per tutti noi appassionati. Il primo è il recente rilascio di un nuovo corposissimo update e una serie di hotfix e nel bene e nel male ci risolvono alcuni problemi ma ci tolgono anche alcune possibilità. Il secondo è la data confermata le 3 settembre per rilascio di un nuovo DLC e se ero un po' titubante agli inizi perché temevo si risolvesse tutto in una noiosissima arena, devo dire che le ultime notizie vanno ad aggiungere alcuni particolari su nuove caratteristiche che probabilmente riusciranno a rendere decisamente più piacevole l'intera esperienza, per cui sicuramente andrò a scaricarmelo e sicuramente me lo giocherò. Ma andiamo con ordine e voglio cominciare con l'hotfix e l'update. Dalla pagina che fa da intestazione potrete trovare i link che vanno a quelle dettagliate di pagine per le varie piattaforme, io mi limito a quella sull'Xbox anche se immagino che il grosso delle novità sia condiviso tra tutte le piattaforme. Notate che per i soli utenti di Xbox probabilmente riceveremo la richiesta alla partenza del gioco per lo scaricamento di un nuovo compatibility pack, quindi un pacchetto di aggiornamento della compatibilità. Qui sulla sinistra troviamo gli ultimi hotfixes, il più recente fa riferimento al 13 agosto ed è un'aggiustatina riguardo a DLC Dainitina e in particolare hanno semplicemente aggiunto delle nuove teste come possibilità di bottino ottenuto lanciando i dadi, con le famose casse appunto con i dadi magici. E già c'eravamo accorti e abbiamo avuto modo di discutere soprattutto nei post insieme degli hotfix appena precedenti di una settimana che tra le altre cose più interessanti avevano finalmente risolto i problemi, addirittura si potevano considerare veri e propri bachi, errori, nella probabilità di ottenere certe leggendarie, che era quasi impossibile, dai signori che conosciamo molto bene come il Doc Mercy per l'Infinity, Mad Dog che invece di rilasciare la sua arma, la Madhouse, rilasciava sempre la Babymaker e il signor Savage Lee selvaggiamente che era impossibile che, o quasi, che lasciasse le Harold, le famosissime pistole Harold e McNally per il suo Hammer Buster. Ma veniamo alla cosa che ci interessa di più e cioè l'update. Vi ricordo che l'update può anche essere in qualche modo skippato, evitato, bypassato e forse chi di voi ha appena scoperto il trucco dell'ingresso all'infinito nella stanza del tesoro del DLC di Capitan Scarlet, farebbe bene a fermarsi un attimo, perché purtroppo una delle cose che hanno sistemato con questo update è proprio quello, non è più possibile entrare, almeno col sistema che ho spiegato io nel mio video, all'infinito nella stanza del tesoro. Secondo me si può fare comunque in un altro modo e tra un po' ve lo dico. è chiaro che decidendo di attendere ad applicare l'ultimo update, rinunciato automaticamente anche alla possibilità di installare il prossimo DLC. E attenzione, perché una volta installato l'update non c'è modo, se non forse sul PC e con un po' di rischio di disattivarlo, mentre per evitare gli hotfix, a meno gli ultimi, perché poi di solito quelli più vecchi vengono incorporati dentro uno dei suoi update, è sufficiente giocare scollegati dalla rete, quindi in riferimento all'Xbox basta non collegarsi all'i. A grande richiesta da tutti i noi giocatori, hanno deciso, bontaloro, quindi prima caratteristica interessante e positiva dell'update, di aumentare ancora la possibilità dello spazio di acquisto per l'inventario degli oggetti acquistati appunto al mercato nero. Dovremmo però dissanguarci di eridium, perché ogni incremento della capacità di portare con sé munizioni per ciascun tipo di arma ci costerà 100 pezzettoni di eridium. L'incremento della capacità di trasporto dello zaino, e potremo farlo per altre due volte, quindi occhio penso 3 slot per ogni upgrade, quindi dovremmo arrivare a 39, adesso poi sarà da verificare. Comunque il primo upgrade ci costerà 150, il secondo ben 200. Stesso discorso per la banca a Sanctuary. Due upgrade, il primo 150, il secondo 200. Quindi grossomodo per comprarci tutto, ad occhio siamo intorno ai 1500 pezzi di eridium, perché qua sono 700, poi 100 per ogni tipo di munizione, 6-7 tipi di munizioni, insomma grossomodo siamo lì. Per cui datevi da fare con tutti i trucchi, perché trucchi, strategie tecniche per accelerare il farm delle eridium, probabilmente il modo migliore è andare a giocare in cobo con amici e far fuori i dragoni nell'ultimo DLC. Vi ricordo che lì ciascun giocatore, fatti fuori i dragoni, si mette pochi minuti in 4, guadagnerà la bellezza di 80 pezzi di eridium. Poi salto alcune voci che sono qui squiglie, questa è veramente importante dal mio punto di vista. C'è scritto che hanno aumentato la probabilità del drop delle armi leggendarie per nemici dal livello 61 in su, perché ovviamente aumenterà. Perché rifare il farm con le vecchie probabilità? No, per quanto mi riguarda. Ma se diventa più facile, invece dover accoppare 20 volte, 30 volte, 40 volte un boss, con 4-5 volte ce la si fa, e allora sì, allora diventa interessante riprendersi dopo un po' di livelli, le herald, gli scudi, il B, eccetera. Grande mostra dal mio punto di vista. E forse si sono anche accorti che equipaggiando con alcune combo, almeno alcuni personaggi, il gioco diventava addirittura semplice, anche in modalità cacciatore definitivo. E quindi, tra le altre cose, hanno pensato di aumentare, sempre per i nemici di livello 61 e superiore, la loro capacità di rigenerazione della salute. Ok, vedremo. Poi hanno incorporato nell'update, perché questo mi sembra l'avessero già risolto con Lotfix, il bacco che impediva a tutti, a volte, di vedere o di poter prendere il bottino rilasciato a Terramorphous. Ok. Poi, purtroppo, pensate che ero lì per spiegarvelo, ho risparmiato tempo, perché poi sarebbe stato subito inutile. hanno eliminato la possibilità, con un trucchetto, di poter, senza salvare intendo il personaggio, rientrare, perché quello secondo me funzionerà sempre, di beccarsi tutti e due gli oggetti, tra i quali normalmente si doveva scegliere uno solo dei due, per alcune missioni, che prevedevano una doppia possibilità d'arma come ricompensa. Non sarà poi più possibile fare i furbetti suicidandosi col trucchetto durante un duello, tipo sparare un oggetto che poi esplodendo ti fa fuori. Questo trucco che hanno sistemato, non lo conoscevo neppure, sono sincero, permetteva di aumentare i propri punti abilità, oltre la quantità che si intendeva essere quella consentita. Finalmente anche il drop rate di Flint è tale per cui, veramente, c'è la molla, la sua arma leggendaria, e ok, anche questo mi sembra sia un hotfix tirato dentro nell'update. E questa notizia, invece, farà versare un po' di lacrimucce a chi era abituato a utilizzare, magari abusandone però, le cosiddette armi black, quelle nere, moddate. Io vi ho sempre detto che non mi scandalizzo se qualcuno a casa sua, nel senso in partita offline, dopo averci provato però in modo regolare, avrà fuori una o due volte un raid boss, poi per sveltire quello che diventava un farming estenuante, snervante, ficcarsi addosso qualche arma super potente, e giù, di brutto, a cercare di ottenere quella maledetta leggendaria, che pare non voler mai arrivare. E fino ad ora era possibile ancora tenersi queste armi nere, black, con un trucco mettendosele nella banca, perché lasciarle addosso con lo zaino venivano automaticamente eliminate al successivo salvataggio. Bene, adesso non è più possibile neppure questo, quindi in teoria, applicando l'update, rientrando nella propria partita, chi aveva delle armi moddate nella banca dovrebbero essere veramente, a questo punto, eliminati in automatico. E finalmente, perché questo creava problemi a tanti, che mi scrivevano sui post, ma come è possibile riuscire a combattere più volte al giorno contro un raid boss? Mi fa aspettare fino al giorno dopo. La mia risposta era sempre, ma sì, attenzione però, perché se voi giocate offline, allora il blocco sul raid boss rimane. E era disabilitato con un hotfix, ma se uno non aveva la possibilità o non voleva giocare online, l'hotfix non veniva applicato, perché lo è al momento della partenza del gioco, se si è collegati ad internet, e quindi toccava aspettare un giorno intero per combattere una seconda volta, una terza volta contro un raid boss. Veramente scocciante. Ecco, oggi, quantomeno, l'hanno inserito a livello di update, quindi fate di questo update, una volta per tutte, una volta sola, una tantum, e per sempre non avrete più il blocco giornaliero sui raid boss. Grande mossa anche questa, finalmente. E questa? Chi non si è mangiato unghie, falangine, polso, fino al gomito, quando quel maledetto guerriero che non c'era a verso, che si dissolvesse, nascondeva sotto di sé la leggendaria, magari dopo 30 volte che avevamo occupato. Bene, quei tempi sono finiti, hanno risolto anche questo baco, finalmente sto maledetto guerriero, quando sarà passato a miglior vita, si dissolverà. Ottimo. Finiti anche i tempi, ma era già un hotfix che aveva risolto sto problema, del BNK-3R che qualche volta rimaneva bloccato in posizione in cui poi era impossibile farlo fuori in modo regolare. Toccava ripetere la missione. Uibo! Questa invece non me la sarei aspettata. che era per caso così facile far fuori Voracidus, non erano già sufficientemente elevati i suoi scudi, sì, col Trespasser c'era un po' un trucchetto, ma non è che fosse poi così facile, come nemico. Vabbè, qui c'è scritto che hanno incrementato, aumentato la potenza, la capacità degli scudi del signor Voracidus, così come si era, doveva essere inteso per la modalità cacciato definitivo. Ok, che badilata. E i vigliacchi che maledetti tirchioni hanno anche incrementato il numero dei pezzi dell'idium che sono richiesti per andare a combattere Terremorpus. Ma va là! Ma anche un po' di felicità, altrimenti sono solo botte al morale. Era una scocciatura dover riapplicare le skin ai veicoli tutte le volte che si cominciava una nuova sessione di gioco. Gioco, finalmente, le skin selezionate vengono salvate e automaticamente riapplicate. Ben fatto. Passiamo alle novità sul DLC. Qui la botta sul morale. Non è più possibile entrare, come vi ho mostrato nel mio video, nel mio primo video, su Borderlands, nella stanza del tesoro all'infinito. Però, secondo me, si può fare ancora così. Ora, non ho nessun salvataggio di personaggio in questa situazione, quindi magari aiutiamoci gli uni con gli altri. Appena uno avrà la possibilità di fare questo test, diffonda la, spero, lieta novella. Funziona, funziona. Anzi, mi pare che prima di questo update qualcuno l'avesse già fatto notare. E cioè, arrivare ad accoppare il Leviatano, poi, non entrare nella stanza del tesoro, quindi non far alzare la porta, lo sbarramento della volta, ma, salvare uscendo. Poi, farsi una copia di quel personaggio con quella partita, su chiavetta USB o un'altra unità di memorizzazione. poi, ricaricare invece la versione originale del salvataggio e entrare nella stanza del tesoro. A quel punto, prendere le armi, spassarle a un secondo personaggio, tutto come al solito. Dopodiché, fa che cosa? Ritornare alla dashboard, quindi uscire dal gioco, e ricopiare il salvataggio dalla chiavetta USB sulla unità principale, portando indietro del tempo. A quel punto, ci ritroveremo ancora, a momenti in cui non saremo ancora entrati nella stanza del tesoro e potremo rifarlo. Quindi, tutto sommato, alla fine, i tempi sono ancora quelli, perché tra far la scalata del Leviatano e fare quel giochetto, esco dal gioco, ricopio da chiavetta e poi rientro nel gioco, secondo me, come tempi, siamo lì. Oltretutto, può essere che tutte le prime volte che si entra nella stanza del tesoro ci sia forse, non sono sicuro, una maggiore probabilità di ottenere una leggendaria, chissà, quindi un piccolo vantaggio alla fine pur l'avremmo ottenuto. Ok, diciamocelo se funziona. Essendo poi l'ultimo uscito, non lascio perdere Hammerlock, perché no, stupidata, quello che ha ricevuto più cure con gli Hotlix Update è il DLC di Tiny Tina. Sono tutte cose per lo più di poco conto, però, a seconda del personaggio che avete e di quello che state facendo, forse potrebbero risolvere un problema che a me non pare così grande. Più interessante l'aggiustamento su diverse missioni che in certe situazioni non si riusciva proprio a completare. Eccole qua, quelle che hanno sistemato. Anche l'equipaggiamento in generale ha ottenuto la sua sistematina. Lo shield Pot o Gold ora droppa in modo corretto gli oggetti come previsto quando danneggiato. Ma non voglio tediare, insomma, sono cosette che aggiustano le statistiche, le armi che non esplicavano tutti i loro effetti come da scheda descrittiva, cose così. Nulla che ci cambi la vita. E qui, sui vari personaggi, ma di notevole forse questo trucchetto che deve essere più possibile, cioè la proprietà discordia che rimaneva attiva dopo aver fatto un respack. E purtroppo anche questo per zero con l'abilità del kunai che si accumulava dei livelli oltre a quelli previsti, ma solo in certe situazioni che non conosco, sono sincero. E questa, cavolo, me la sono proprio persa. non sapevo che c'era un trucchetto, un glitch per cui Salvador alla fine poteva ritrovarsi con due armi nella destra. Eh, disabilitando secondo certo ordine le sue abilità d'azione. Eh, questo non lo conoscevo proprio. Ecco, io mi fermo qui, non ho voluto in modo sistematico guardare proprio tutte le voci, fatelo voi se vi interessa magari usando il traduttore di Google. Nel prossimo video invece, tutto quello che è dilettrizzante c'è da sapere sul prossimo e ormai vicino DLC del 3 settembre.